soci di forever bambù buongiorno oggi è una giornata particolare sotto tanti punti di vista è san valentino e il team di comunicazione ha creato una creatività nuova appositamente per oggi che è uscita in diciamo posizioni particolari vi faccio subito vedere leggo come vedete siamo in copertina e in quarta di coperta guardate che bella dal cuore del bambù al cuore di chiami ancora metro siamo in quarta di coperta ma il rullo di tamburi è per il sole 24 ore se qualcuno di voi legge il sole 24 ore oggi ci trova in copertina al sole insomma come dire abbiamo fatto un'operazione un po straordinaria oggi la nostra comunicazione è andata anche fuori dalle solite righe oggi abbiamo creato un po questa questa aurea e intorno al bambù quindi abbiamo parlato di cuore abbiamo parlato di amore una cosa molto bella per dire che forever bambù entra anche in questo segmento dal cuore del bambù al cuore di chiami forever bambù ciao a tutti